Il caso politico deflagrato lo scorso aprile sugli aumenti dei compensi al Consiglio d'Amministrazione di Marche Multiservizi si è definitivamente sgonfiato questa mattina deliberando il dietro front sugli indennizi che riporta il CDA ai compensi precedenti. L'Assemblea dei Soci di Marche Multiservizi si è infatti riunita in mattinata nell'auditorium di Pesaro per trattare un unico punto all'ordine del giorno relativo appunto alla determinazione dei compensi dell'organo amministrativo. L'Assemblea con la presenza del 97,34% del capitale sociale ha deliberato con 97,24% dei voti favorevoli dei presenti di confermare i precedenti compensi dell'organo amministrativo nella misura di 38 mila euro per il presidente Andrea Pierotti anziché dell'incremento che era stato ipotizzato a 60 mila euro. 59.506 euro anziché 100 mila per l'amministratore delegato Mauro Tiviroli ai quali si aggiunge una parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi di 50 mila euro. Per quel che riguarda gli altri sette consiglieri d'amministrazione i compensi rimangono 9 mila euro anziché ai 15 mila che erano stati previsti nel complesso piano di aumenti proposto dal presidente della provincia Giuseppe Paolini che aumentava complessivamente i premi a 112 mila euro annui. Presente oggi all'Assemblea dei Soci anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. È una delibera che di fatto conferma quanto era già stato assunto dal Consiglio nella seduta dell'8 maggio nella quale era stato preso atto della rinuncia dei singoli componenti dell'organo amministrativo relativamente alla quota incrementata nell'ultima Assemblea dei Soci.